Non perde un colpo il Bari formato trasferta che batte e rende con il risultato di 3 a 0. Sul campo del Luigi Razza di Vibo Valencia, mister Vivarini riconferma gli 11 titolari schierati contro il Teramo. Unica novità è la divisa gialla, indossata dagli ospiti per la prima volta dall'inizio del campionato. Il Bari prova da subito a gestire la partita e al minuto 11 è simeri ad avere l'occasione del vantaggio. A Mlili serve il numero 9 che dal limite dell'area va al tiro. Savelloni salva il risultato. Al quindicesimo è sempre Simeri che prova la conclusione a giro ma la sfera termina di poco fuori. Al ventiduesimo è in rende a farsi vedere nella metà campo avversaria ma Vivacqua manca il tapin e non riesce a sfruttare una distrazione della difesa a Bianco-Rossa. Gol sbagliato, gol subito. Bianco vince un contrasto a centrocampo e lancia Simeri il cui stop difettoso trae in inganno Savelloni e il pallone rotola beffardamente in fondo al sacco. Il numero 9 dei Galletti firma l'1-0 per gli ospiti e si porta a quattro reti stagionali. Il Bari cerca subito il raddoppio con il cross di Schiavone per Berra che spizza di testa ma non trova lo specchio della porta. Al trentaduesimo si rivede Simeri, l'attaccante si libera e va al tiro ma la sua conclusione è debole e Savelloni blocca. Ma due minuti dalla fine arriverà doppio dei pugliesi, Antenucci fin qui poco incisivo si invola verso la porta sul lancio di Sabbione. La sua progressione è inarrestabile e il numero 7 trafigge Savelloni con il destro per il suo dodicesimo gol in campionato. Nella ripresa gli ospiti protestano per un presunto fallo in area ai danni di Perrotta ma l'arbitro lascia correre. Il penalty arriva al sessantesimo proprio con Perrotta che viene atterrato in area da Vito Francesco e l'arbitro non ha nessun dubbio. Calcio di rigore per il Bari. Dal dischetto Vantenucci che con il destro non sbaglia firma la doppietta personale e il suo gol numero 13. È 3-0 per gli uomini di Vivarini. Al sessantanovesimo il render rimane in 10 con Rossini che viene espulso per doppia munizione. I ritmi si abbassano, parte la girandola dei cambi e arriva anche l'occasione per l'esordio di Esposito. In pieno recupero il Bari sfiora addirittura il poker con il subentrato Scavone ma il match va in archivio sul 3-0 per gli ospiti che inanellano il dodicesimo risultato utile consecutivo.